Noi pretendiamo, proponiamo, pretendiamo che il primo ministro Conte mantenga la parola del 24 maggio dove lo abbiamo incontrato e dove si è rimpegnato a fare come primo atto di governo il ristoro ai risparmiatori vittime di questa colossale truffa. Eh già, di tempo ne è passato dal raggiungimento del fatidico accordo che ha portato all'approvazione in Parlamento, quasi ai tempi supplementari, della legge che riconosce la possibilità di ristoro per quei risparmiatori rimasti impigliati nel fallimento delle ex popolari. Il governo è cambiato e nuove promesse sono state fatte, ma la strada sembra essere tutt'altro che in discesa. Noi abbiamo bisogno che da parte del Ministero Economia e Finanze ci sia una valutazione immediata di conferma che questa legge che è stata approvata da tutto il Parlamento, l'impianto di legge deve essere preservato per l'onore del Veneto e dell'Italia. Sbloccare i fondi dormienti è e rimane la parola d'ordine in fondo, spiegano le associazioni. Basta fare un decreto attuativo che semplifichi l'accesso al fondo, che deve essere semplificato al massimo ed aumentare e prendere quei soldi e darli ai risparmiatori per ricreare quello che tutti abbiamo bisogno, una locomotiva che è sempre stato il Veneto.